Ho finalmente presentato ogni stanza di rilascio passaporto, dico finalmente perché le distanze e le lungaggini temporali che erano richieste nei mesi precedenti facevano sicuramente da deterrente. Ad oggi, grazie all'opportunità del mio paese, il comune di Bazzorano, di poter richiedere il passaporto direttamente all'ufficio postale, quindi a pochi minuti da casa, ho potuto finalmente soddisfare quello che è un mio diritto e usufruire di un grande servizio volto a prenotare quanto prima il prossimo viaggio. È stata l'avvocato Gabriella Perruzza la prima cliente ad aver usufruito del servizio di richiesta e rinnovo del passaporto in Abruzzo in un ufficio postale grazie al progetto Polis. Effettuare la richiesta è semplice, non occorre nessun appuntamento. Basterà recarsi in un ufficio postale, consegnare a Sportello un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie di cui una precedentemente legalizzata, una marca d'abolo da 73,50 euro in contrassegno telematico e pagare poi il bollettino di 42,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica di Poste Italiane sarà l'operatore di Sportello a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino, impronte digitali e foto, inviando poi la documentazione all'ufficio di polizia di riferimento. Per ora sarà possibile usufruire del servizio in 14 comuni dell'Aquilano con meno di 15.000 abitanti, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese del Made in Italy. e a partire da luglio la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto sarà estesa gradualmente a tutti gli uffici postali d'Italia, anche nelle grandi città.